Una serata speciale, chiamata speciale proprio per la realizzazione e per la presenza delle persone che ci sono, perché dalle più importanti alle meno sono tutte persone speciali, comunque hanno realizzato cose con tutta la loro forza e ce l'hanno messa veramente tutta. La serata include diversi ospiti, intercalata anche con parti musicali, comunque per rendere la serata leggera, nello stesso tempo con un filo comunque molto importante sotto, dedicato ai giovani. Dedicato ai giovani perché comunque abbiamo pensato di far capire, speriamo, meglio ai nostri ragazzi quanto sia importante il valore di ciò che hanno, della loro salute, della loro fortuna, del fatto che sono liberi di fare un po' tutto. Principalmente ci sarà la nostra madrina della serata che è Giorgia Righi, è un nostro elemento della Proloco, ma è anche una ragazza piena di vitalità presente a questa serata. Ci saranno degli sportivi paraolimpici molto validi, giornaliste, persone dello spettacolo, quindi un po' tutto. Quello che ci ha fatto scattare un po' la molla per realizzare questa serata, che poi si spera che sia la prima perché la vogliamo un po' riproporre magari quando non avremo più tutte queste restrizioni, quindi anche potendo far venire più gente. Proprio pensando ai giovani come prima cosa, visto che la Proloco ha un gruppo di ragazzi che partono dai 14 anni e arrivano ai 19, su di loro è stata un po' pensata la cosa, pensando a come fargli valorizzare le cose che hanno e il loro futuro, le possibilità che attualmente possono giocarsi per avere il meglio della vita comunque. Quindi partendo da questa cosa e anche un pochino, speriamo, facendo nascere loro la consapevolezza di quanto è importante non avere problemi. Com'è possibile prenotarsi quindi? Nella nostra locandina, che gira su tutti i siti social, praticamente su social e televisione, c'è un numero di prenotazione inerente ad una persona che è Giulia. Questo evento nasce in un anno particolare anche per il Gallo di Petriano perché appunto quest'anno non è stato realizzato il Festival del Gallo d'Oro. Esatto, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto bypassare la nostra manifestazione Canora, che quest'anno raggiungeva la sua cinquantesima edizione. Era un'edizione un po' troppo importante per forse realizzarla in un breve tempo che a noi non è concesso, perché comunque è un festival che richiede un anno di lavoro. Però speriamo di poterci preparare per l'anno successivo. Speriamo perché comunque ogni cosa è limitata e restrittiva alle varie problematiche del momento, quindi ogni cosa va presa a breve e quindi non sappiamo ancora in che modo riusciamo a realizzare eventualmente il Gallo d'Oro il prossimo anno. Grazie.